Ciao, sono Camilla, nella vita lavoro in agenzia mi occupo di comunicazione. Sui miei canali social mi piace raccontare di me, di quello che mi piace fare e soprattutto del mio percorso verso uno stile di vita sempre più attento all'ambiente. Non è un percorso dritto, ci sono alpi e bassi e qualche volta anche qualche scivolone. Però l'importante per me è continuare a rialzarsi e a camminare verso l'obiettivo. Oggi sono qui perché Tempo insieme a LifeGate mi hanno lanciato una sfida. Trovare quattro idee per un upcycling creativo e recuperare carta e plastica senza gettarle. Siete pronti? Iniziamo! Siete pronti? Iniziamo! Siete pronti? Iniziamo! Spero che queste idee vi siano piaciute, io ce l'ho messa veramente tutta. Se provate a rifarlo, fatecelo sapere. E ora tocca a voi, liberate la creatività! Siamo. 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 Grazie a tutti.